Si inizia, è un peccato che si inizi soltanto, nel senso che la Calabria ha sempre avuto importanti risorse per le attrezzature come quella che oggi si inaugura, purtroppo non le ha mai spese tempestivamente, da un anno e mezzo a questa parte abbiamo accelerato tutte le procedure per dotare i nostri ospedali delle attrezzature più utili e per i professionisti che devono lavorare negli ospedali e soprattutto per i pazienti che meritano una sanità migliore in Calabria. Quindi complimenti al management dell'azienda Dulbecco, al commissario La Regina che ha messo in atto tutti gli adempimenti amministrativi per questo risultato. Non è un risultato che va celebrato, ogni volta che facciamo qualcosa di buono in sanità dobbiamo avere sempre l'atteggiamento di chi deve dirsi soddisfatto della circostanza che forse si sta facendo molto di più, anzi sicuramente molto di più che in passato, ma deve avere l'atteggiamento di chi sa che è ancora troppo poco rispetto a quello che bisogna ancora fare. Sì, ci sono i problemi anche sulle liste d'attesa, stiamo cercando di fare dei progressi restituendo ai calabresi ciò che dovrebbe essere normale. Abbiamo per esempio messo in rete il CUP regionale che oggi comprende tutte le aziende sanitarie ospedaliere della Calabria, ad eccezione di questa e dell'azienda sanitaria provinciale di Viboli. È un'applicazione che dà la possibilità ai cittadini di prodottare le visite dal loro telefonino o dal loro pc. Ora stiamo pensando di estendere questa possibilità anche alle tabaccherie, alle farmacie, alle parafarmacie, in maniera tale che ci possa essere un'interfaccia per quelli che non sanno usare questa applicazione. Ma bisogna lavorare anche dall'altro lato, cioè dall'offerta di prestazioni per ridurre le liste d'attesa. Ci stiamo lavorando. Ne approfitto per dire che ci stiamo lavorando pensando all'immediato, ma ci stiamo lavorando pensando anche al futuro. Perché la Calabria avrà molte più borse di specializzazione nei prossimi anni, 250 di provenienza statale, altre 260 ministeriali e altre 58-60 regionali, cioè pagate dalla regione. Chiaramente saranno per specializzati che saranno disponibili negli ospedali fra diversi anni, quando io non sarò più presidente della regione. Però io ho il dovere di pensare all'immediato, ma intanto di costruire anche condizioni migliori per chi si occuperà della sanità dopo di me. Sì, è un grande investimento per la Calabria perché questa azienda è sede del più importante policlinico universitario del Mezzogiorno per numero di posti. E quindi finalmente l'Università di Catanzaro potrà disporre di un policlinico adeguato al prestigio, all'autorevolezza di questa università. E soprattutto i cittadini calabresi potranno usufruire delle competenze, delle esperienze che anche in termini di assistenza sanitaria l'Università potrà loro offrire. Sì, è vicina, ci sto riflettendo da un po' di giorni e credo di poter tirare le somme fra qualche giorno. Si va avanti sul modello che avevamo pensato di azienda zero che in qualche modo si occupa di vicariare il deficit di capacità amministrativa che c'è a monte e a valle nel sistema sanitario, in dipartimento e nelle aziende sanitarie ospedaliere. E quindi il progetto non viene messo in discussione dalla perdita pure dolorosa, pure molto grave che la morte dei profitti ha determinato. Io penso che per quello, intanto la maggior parte sono già state accettate dal punto di vista del finanziamento, per cui dobbiamo solo vedere quanto noi siamo in grado di mettere a punto le infrastrutture, quindi dove saranno accolte queste tecnologie e quindi poter procedere. Quindi io penso che nel giro di qualche mese, tre, sei mesi, il parco tecnologico del policlinico sarà rinnovato. Queste strutture di diagnostica per tanto tempo hanno subito questa criticità. Io penso che dando a loro macchine di qualità più efficace ma soprattutto più sicure possono fare la differenza dal punto di vista della diagnostica strumentale. Sì, guardi, io vedo il Rettore, diciamo che l'idea progettuale è già pronta, quindi in questi giorni sarà inviata soprattutto al Presidente, al Commissario Adacchita e al Rettore. Di intesa lavoreremo sulla mia proposta e quindi penso che questo possa già avviare il discorso della ristrutturazione. In Danda abbiamo già individuato il settimo piano dove era malattia infettiva per quanto riguarda l'MCE, la medicina e chirurgia d'urgenza, dieci posti letto, abbiamo già avviato le procedure di assunzione di 12 infermiere, 6 osse e 6 medici di chirurgia, per cui stiamo avviando quel famoso percorso che ci deve portare anche ad accettare la domanda di emergenza. Allora, diciamo che questo macchinario può studiare qualsiasi distretto corporeo, quindi questo è già un'apparecchiatura che ha un profilo estremamente importante, steso, significativo. È di ultima generazione, quindi permette di acquisire anche delle particolari tipologie di esami, quindi è molto avanzata, è molto utile. Allora, chiaramente possiamo studiare, come dicevo, qualsiasi parte del corpo. Per quello che riguarda il sistema nervoso centrale, voi sapete il cervello, il midollo e così via, la risonanza magnetica rappresenta lo strumento più importante, diciamo, per poter vedere proprio la struttura, la forma e anche la funzione, quindi di questi organi. Quindi voi sapete che nella nostra regione, in Calabria, abbiamo tante patologie neurologiche, ad esempio sclerosi multipla, ischemia cerebrale, Alzheimer, tutte queste patologie beneficeranno sicuramente ad altissimo livello di questo tipo di apparecchiatura. A breve ci sarà un'ulteriore risonanza che sarà affiancata alla presente. Allora, questa apparecchiatura è da 1.5 Tesla. Tesla è la misura del campo magnetico, è come la cilindrata di una macchina, diciamo. L'altra apparecchiatura sarà da 3 Tesla, quindi avrà una maggiore cilindrata. Ma attenzione, non è che quella da più alto campo è meglio di questa. Sono entrambe molto valide e soprattutto offrono, diciamo, delle peculiarità, delle caratteristiche diverse. Diciamo, alcuna, questa tipologia di macchina è più adatta a un tipo di studi, l'altra lo sarà per altro tipo di studi. Quindi avremo una possibilità più estesa, maggiore, più approfondita di esplorare tutti i distretti corporei di competenza radiologica e neuroradiologica. Allora, voi dovete sapere che tra le macchine chiuse, diciamo, questa è una tra le più aperte. Allora, le macchine aperte, diciamo, ormai sono un po', sono dedicate a dei distretti corporei molto periferici, come può essere il piede, il polso, eccetera, quelle veramente aperte. Mentre per gli organi importanti, ad esempio il cervello, non sono assolutamente adatte, perché hanno un campo magnetico basso, come vi dicevo, mentre il campo magnetico importante deve essere da 1.5 in su. Quindi da queste si può esplorare con certezza le strutture corporee, diciamo. È aperta perché? Perché ha 10 centimetri di più di larghezza del foro d'entrata rispetto ai modelli precedenti, che erano di 60 centimetri e questa di 70. Ed è più corta rispetto alle altre, quindi permette quasi di stare fuori. Poi dentro c'è uno specchietto che permette al paziente di vedere intorno, in questo caso vedrà il mare, per cui anche uno spettacolo piacevole. Ultima cosa, il lettino che voi vedete è staccabile, quindi noi lo portiamo fuori, possiamo far mettere il bambino o il paziente fuori, tranquillizzarlo, eccetera, e poi accompagnarlo. Ad ultimo la trasparenza del vetro permetterà al paziente di vedere che siamo qua e quindi renderà sicuramente più, diciamo, facile l'esecuzione di questa tipologia d'esame. Siamo uno soddisfatti che il Ministero ci ha riconosciuto la valenza dei nostri colleghi, di tutti i colleghi e ha aumentato le borse che venivano date all'Università di Catanzaro. Cioè sono quasi una quarantina in più dal Ministero e in più ne sono arrivate 80 dalla regione e quindi potenzialmente noi possiamo formare più specializzanti. All'arrivo di una macchina come questa o di altre attrezzature naturalmente ci permetterà di formare degli specializzanti che sono al passo col tempo, ossia formarsi sulle vecchie strutture radiologiche. Naturalmente aveva dei problemi, ma formarsi su queste macchine che sono molto performanti e come ha illustrato poco fa il professore Sabatini, hanno delle potenzialità enormi, permette uno di formare meglio i professionisti di domani in area radiologica, neuro-radiologica, ma permette anche di fare molte più diagnosi precoci sul territorio. Diciamo che questa macchina accoppiata all'altra non farei che fa il doppio, forse fa più del doppio di quella che poteva fare la precedente. Quindi maggiore risorse noi diamo all'area radiologica, siamo tutti contenti perché l'area radiologica è fondamentale per tutte le discipline della medicina. Io iniziai quando ero preside a dire voglio potenziare l'area radiologica, vi parlo di oltre dieci anni fa, perché da là parte la diagnostica più importante per tutte le malattie. Quindi benvengano queste risorse, poi speriamo di potergli dare, come ho detto prima al collega, i soldati, che sono gli specializzanti, i tecnici e tutto il personale, per poter garantire una diagnostica che non è di Catanzaro, ma di tutta la Regione Calabria. Con Vincenzo La Regina stiamo cercando di trovare la migliore soluzione per poter aprire il più presto possibile, perché a parer mio distruggere e ristrutturare ti richiede più tempo e più denaro che costruire qualcosa ex nova. E spiego il perché. Quando fu ipotizzato il pronto soccorso qua, fu ipotizzato 35-40 anni fa, quindi non è più un pronto soccorso moderno, abbiamo avuto la possibilità che abbiamo un'area al settimo livello, come vi ha detto il dottore La Regina, che possiamo dedicare, ma quest'area è vicina sia alla medicina generale, alla geriatria, che alle chirurgie. Quindi è un'area che è stata veramente, diciamo, individuata con criterio, non è stata messa all'accasaccio. Speriamo di poter partire il più presto possibile, perché credo che saremo una risorsa per l'intero territorio. Non è all'esterno, è sempre all'interno del campus, ma collegato nel miglior modo possibile, sia con l'area radiologica, sia con l'area animazione, sia con le aree chirurgiche, perché è la cosa migliore, piuttosto che metterle in un angolo di questo policlinico e fare dei percorsi lunghi. Quindi dobbiamo costruire un pronto soccorso il più moderno possibile, a passo con i tempi. Grazie. Grazie.